luis nasario da lima per tutti il ronardo il fenomeno il colpo dell'estate del 1997 lo compra moratti dal barca con una cifra eco di 50 mila di lire per portarlo all'inter porta dove arriva in panchina gigi simone intanto la juve campione d'italia vende viare a tesico madrid e compra in zaghi e davis in milan dopo aver venduto baggio al bologna compra ba e patrick lavert e panchina ritorna a capello alazio compra jugovic al media e mancini la roma affida la panchina a zeeman alla prima giornata la nuova inter di simoni batte rimonte il brescia con la doppietta di re cova la juve batte negli ultimi 10 minuti lecce per 2 a 0 alazio batte 1 a 0 a napoli col primo gollaziale di mancini mentre il mina si ferma sul pari un euro col piacenza perciò dopo 90 minuti in testa ci sono atalanta roma juve lazio palma fiorentina interessante partenza sprint per l'inter che dopo quattro giornate prima in classifica a punteggio pieno ovvero 12 punti dove la seconda giornata segna primo gol l'italiano ronardo contro il bologna poi vince anche con lecce fiorentina per poi pareggiare la quinta giornata con la lazio qualche certezza per la juve con alcuni pareggi ma si trova solo a meno due dall'inter capolista inizio del incubo per il milan che dopo quattro giornate solo due punti ancora peggio però l'inizio del napoli che ultimo in classifica e alla quinta giornata perde 6 a 2 con la lazio il presidente ferlarino bortolomotti e prende mazzone in panchina l'inter continua a vincere rimane prima testa al campionato e dopo otto giornate 22 punti su 24 a disposizione dove vince col parma con gol di ronaldo e va più 5 sulla squadra palmenese inizio da record per l'inter del fenomeno ronaldo la juve con tre vittorie consecutive però prova a stare attaccata al capolista intanto però novembre 1997 muore l'ex allenatore dell'inter e l'enerera per tutti il mago all'età di 81 anni dopo 12 giornate la classifica però dice inter 30 juve 26 udinese 23 parma e roma 22 napoli invece ultimissima con solo cinque punti dopo la decima giornata i partono pei esonero giamazzone e arriva galeone alla tristema giornata big match tra udinese inter coi rilani che vincono 1 a 0 con gol decisivo di oliver birov nero cupro ne approfitta la juve che vince vince 5 2 con l'emperi con la tripetta di alex del piero bianconeri a meno 1 dalla vetta alla quattrocema giornata big match al meazzo tra inter juve la vincono in arazzurri 1 a 0 con gol di yuri giorkaif su assist di ronaldo al minuto 46 l'unese vince con la lazio e guanti bianconeri a secondo posto alla sedicesima giornata prima sconfitta dell'inter contro il bari con gol di masinga la juve vince 1 a 3 col bologna e torna a meno 1 dalla vetta la dicesettesima giornata l'ultima giornata l'inter pareggia 1 a 1 con l'empoli e la juve vince 3 a 1 con l'atalanta conere si lavorano campioni d'inverno grazie grazie al gol di antonio conto e la doppietta di zidane perciò il giro di boha juve 38 in 76 udinese 34 lazio 31 la juve alla diciannovesima giornata vince con la roma col primo gol bianco in bianco nero di edgar davis ma polemiche giallo rossi per un rigore non dato intanto l'inter perde col bologna e si allontana dalla vetta di 4 punti l'inter poi però torna a vincere contro brescia e lecce ma poi pareggia con la fiorentina stesso rollino di marcia per la juve ma il distacco rimane ovviamente sempre di 4 punti alla ventunesima giornata la lazio vince con l'udinese bianco celestie arrivano al terzo posto intanto al napoli cambia ancora la panchina esonerato galeona arriva a monte fosco ma in patropea rimangono sempre ultimi alla ventunesima giornata la juve perde con la fiorentina l'inter perde con la lazio perciò la juve rimane prima mentre la lazio guanta l'inter al secondo posto a pari punti alla ventunesima giornata la juve pareggia in casa col napoli 2-2 l'inter dopo aver perso col parma torna a vincere con l'atalanta poi vince il derby per 3-0 con il gol del cielo simeone zamorano e ronando e si porta a meno uno della juve capolista alla ventunesima giornata la juve vince 4-1 col milan con la doppietta di inzaghi di del piero ma anche inter e lazio fanno lo stesso alla ventunesima giornata big match all'olimpico tra la lazio e juve dove i bianconeri vincono 0-1 con un gol all'oro di gioco di pippo inzaghi anche l'inter vince dopo 28 giornate juve 60 inter 59 la lazio ormai staccate fuori sui giochi scudetto in napoli dopo la sconfitta per 3-1 contro il parma retrocede in b con già sei giornate in anticipo alla trentunesima giornata big match ha delle arbitra juve inter che decidere il campionato la juve passa in vantaggio con gol di del piero ma poi l'albitro ceccherini non dà un rigore solare nerazzurri per un fallo di giuliano su ronaldo e da lì scattano le polemiche dove gli interi si sono furiosi con l'arbitro ma la partita finisce 1-0 per la juve dove i bianconeri sono a più 4 sui nerazzurri a tre giornate dalla fine alla trentaduesima giornata di stacco invariato la juve pareggia 0-0 col vicenza l'inter fa lo stesso col piacenza juve più 4 su a due giornate dalla fine alla trentatresima giornata la juve gioca al delle alpi col bologna e vince 3-2 con la trippetta di pippo e zaghi e si laurea per la venticicosima volta campione d'italia secondo scudetto di fila e terzo scudetto per lì vinto con 90 minuti d'anticipo la classifica finale dice juve 74 inter 69 udinez 64 roma 59 fiorentina e parma 57 il mina finisce la soggiorna metaclassifica inserebili vanno napoli lecce atalanta e brescia capocarniere oliver biroff dell'udinese con 27 gol debuto di nana zanbrotta birindelli e chimenti lindelli e chimenti